Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping come promesso ecco il video shopping devo farvi vedere tante belle novità più, siccome voi mi chiedete sempre cosa c'è qui sono semplicemente le cose che vedevate in G cioè abbiamo modificato un po' la... la... come si dice? il... il me... non mi viene in mente abbiamo modificato la disposizione degli oggetti che ne so, è un po' che non parlo vabbè, parlo male allora, siccome ieri abbiamo fatto sciopero non è che abbiamo fatto sciopero, in realtà non sono riuscita a farvi il video allora oggi volevo recuperarla grande sono cose che voi avete già visto e rivisto il primo è questo, pantaloncino l'avevo fatto vedere in un try on haul, arriva da una boutique l'ho rilevato, costava 28 euro in origine ovviamente è un pronto moda no brand in ecopelle, molto carino, va bene fino alla 42 è un color giallo un bel giallo un bel giallo, un bel colore una bella nota di giallo, adesso non so dirvi bene la punta molto carino, mica alta con i bottoncini e questo qua ragazze, è in promozione a 13 euro un altro capone giallo perché mi richiedete spessissimo è questo vestitino microscopico allora, lo sto facendo vedere al contrario una taglia 38 italiana corrisponde proprio a una 38 molto strettino un bellissimo giallo fluo ce l'avevo anch'io ai tempi dei tempi uguale e identico, ce l'avevo mai messo e questo vestito qua ragazze è in offerta a 5 euro perché la taglia 38 è davvero bellissimo indossato, è un amore e dietro ha un bellissimo scollo tutto in pizzo con delle trasparenze continuiamo con questo abito da boutique questo è proprio un abito meraviglioso è una taglia 42 anche se è segnato 44 veste un 42 perché su di me è veramente troppo succinto l'avevo provato in un try on haul è mio ed è bellissimo ve lo faccio vedere perché questo è un abito davvero meraviglioso che indossato fa una figura bellissima mi ricordo che l'unica volta che l'ho indossato mi ha un bel cerchietto ho una fascia gialla nei capelli e stava davvero molto bene c'è la manica leggermente più di pano tessuto jersey molto bella la trama e bello anche nella parte dietro il suo costo ragazze è 13 euro ma questo veramente merita sono capi belli capi che io amo esporre nella mia boutique questi modestamente nella mia boutique espongo quello che voglio piccola premessa e scelgo io quello che devo mettere e ovviamente i prezzi a chi non va bene la porta è là faremo un video ho deciso di farvi un video con tutte le regole del baule così almeno chi vorrà collaborare con me avrà appunto questo video come indicazione e potrà decidere da farsi perché non voglio più avere a che fare con gente che non capisce nulla allora questo è un abitino lungo nuovo anche questo meraviglioso l'abito di Belle di La Belle e la Bestia io lo chiamo così versione liscia ed è una taglia unica va benissimo fino a una 42 meraviglioso e ragazze questo è in sconto a 11 euro e ho detto tutto è magnifico ed è bello sia l'inverno che anche la primavera in base a come lo si abbina poi i gialli ve li ho fatti vedere tutti più o meno mi faccio vedere anche questa camicetta vintage che è un nuovo arrivo questa praticamente è una taglia media e costa soltanto 6,90 euro ragazze bellissima è gialla condizioni perfette con queste righe rosse molto bella anche da mettere all'interno di pantroni a vita alta fatta davvero molto bene anche nella parte dietro c'è il bottoncino un capo meraviglioso e unico che secondo me ci vuole nel guardaroba perché dà un tocco molto particolare nel reparto invece qua che siete sempre attratte perché l'avete visto voi vi è sembrato chissà cosa sono sempre le cose che vi ho già fatto vedere allora un crop top setto di pizzo questo è di H&M ed è una taglia 48 italiana anche 46 secondo me guardate che meraviglia color latte menta con la zippa una specie di bralette tuffettino secondo me è meraviglioso con cose a vita alta e anche come sotto giacca con sopra dei blazer oppure con dei maxi maglioni un po' aperti ma anche portate così se siete abbastanza audaci insomma io le porto tranquillamente anche più succinte di queste e mi ci trovo bene l'estate quando ci sono 65 gradi assolutamente promosso questo invece è un maglioncino di H&M taglia L molto molto semplice abbastanza traforatino carino anche questo e il suo costo hanno vi detto il costo della bralette ragazze è 10 euro ma fatta davvero molto bene questa da H&M almeno 20 euro 25 la pagate guardate che carino abbastanza traforato il suo costo in sconto è 6 euro questo invece è una taglia S sempre color Tiffany ed è scontato a 3 euro piccolino asimmetrico pizzetto nella parte dietro con tutta questa apertura e le borchette qua sulle spalle molto carino anche questo però così con una taglia S ci voglio andare veloce perché ho tante cose da farvi vedere una magliettina basic taglia L ragazze questa qui è sportiva proprio anche per camminare o per outfit un po' più sportivini e il suo costo in sconto è 4 euro questo invece forse non ve l'ho mai fatto vedere è una specie di maglia corsetto in taglia secondo me su 46 ha proprio dentro anche le stecche è meravigliosa ovviamente i lacetti sono quelli interni bellissima traforata traforato nero con sotto questo optical Tiffany e panna meraviglioso il suo costo ragazze è ve lo dico subito 8 euro apposto che 8,90 appunto per oggi poi abbiamo una camicetta questa è di terranova taglia S una camicetta smanicata dicevo ragazze questa camicetta è una camicetta terranova taglia S anche questa credo di non avervela mai fatta vedere è una semplicissima smanicata molto fresca e bella per l'estate con delle borchettine qua sul colletto in ottime condizioni il suo costo è 6,90 euro per oggi sconto a 4 euro ottime condizioni poi cambiamo ancora due capi poi abbiamo finito così poi se avrete altre richieste me le farete questo è un toppettino molto carino color Tiffany e costa 6,90 euro davvero bellissimo anche questo come taglia è una taglia media 42-44 molto bello tutto con questi ricami guardate che carina la parte qua del dettaglio del dettaglio che ha ricamato meravigliosa questo costo ve l'ho forse già letto poi l'ultima anche questa ve l'avevo fatta vedere è questa magliettina da boutique allora questa è una taglia media e costa 9,90 euro traforata meravigliosa con tutti i bottoncini con tutta questa fantasia c'è scritto rom ci sono le città è una bellissima blusa da usare proprio in primavera da mettere con i jeans con pantaloni un pochino più elegantini e la trovo davvero bellissima quindi 42-44 come taglia vi faccio vedere anche questo blazer vintage poi ho finito davvero anche questo mi sa come l'avete chiesto taglia 42 di Bolgheri un bellissimo blazer lungo di un bellissimo colore tra il verde e l'azzurrino lo proviamo così vediamo la taglia e poi ci occupiamo di tutti i nuovi arrivi sono tantissimi cioè lo sono anche impazzirò penso dopo questo video è una taglia 42 come vedete è meravigliosa tra l'altro oggi sembra che sia vestita anche apposta portarlo quindi nonostante la particolarità del mio outfit che non è proprio un outfit comodo per provare colte direi che è perfetto il costo di questo magnifico blazer i blazer vintage si contraddistinguono perché possono avere delle imperfezioni in questo caso lui è perfetto però possono avere tipo le maniche non perfette possono essere stati ritoccati o fatti a mano comunque Sarto realmente una volta le cose si facevano in maniera diversa da adesso ed erano perfette questo non ha nessun tipo di problematica anzi è stupendo ed è impura lana vergine insomma delizioso meraviglioso il suo costo ragazzo è soltanto 16 euro ve lo faccio vedere anche dietro dicevo se avete dei problemi magari che vedete le maniche che non sono perfette è la bellezza del vintage e questo è delizioso in lana non lo sentite neanche che è lana perché è talmente agiato addosso è talmente confortevole a parte che è tutto fuderato quindi non lo sentite comunque ma è quella lana vergine che non si ritrova più veramente quindi non lo sentite quindi non lo sentite Grazie.